amici del canale bentornati nella mia cucina la stagione estiva sta per lasciarci tra poco saranno festeggiata la festività dei defunti dei morti e a fare parte del paniere che per tradizione viene dato ai bambini la mattina del 2 di novembre ci sono anche questo tipo di biscotti che sto per fare che si chiamano te tu e te io sono dei biscotti te tu te io che sono in dialetto vuol dire tieni tu ottengo io e sono dei biscotti morbidi lassati al cacao o lassati al limone per fare questi biscotti ci occorreranno mezzo chilo di farina doppio zero che già ho setacciato tre cucchiai colmi di olio oppure 100 grammi di strutto se non avete l'olio di semi 120 ml di latte 200 grammi di zucchero due bustine di maniglina siccome non ho un limone fresco per grattugiare la buccia uso mezza fialetta di aroma al limone per fare la parte bianca dei biscotti si compone di due parte una parte bianca una volta al cacao una parte al limone e una parte al cioccolato una bustina di lievito due uova e poi per fare la parte al cacao ci occorreranno tre cucchiai di cacao amaro adesso ci metteremo all'opera prenderemo la nostra planetaria e comincieremo ad impastare gli ingredienti allora ho preparato la mia planetaria ho messo la cappa come frusta e adesso andiamo a mettere andiamo a miscelare lo zucchero a montare lo zucchero con le uova uno l'ho già messo andiamo a metterne un altro una cosa che ho dimenticato di dirvi un minuto fa è che va aggiunto anche un pizzino di sale e un cucchiaio di cannella quindi intanto andiamo a montare le nostre uova dopo aver montato lo zucchero con le uova andiamo ad aggiungere piano piano la nostra farina che vi ricordo è stata già sedaciata e alterniamo con il latte e con l'olio alterniamo un po mettiamo il latte vediamo che l'impasto va indurendosi andiamo ad aggiungere piano piano il latte e continuiamo con la farina adesso che abbiamo finito di mettere tutto il latte alternandolo con la farina alterneremo con 3 cucchiai di olio belli colmi quindi andiamo a mettere il primo e continuiamo a mettere la farina man mano che indurisce andiamo a mettere gli altri due cucchiai abbiamo finito di alternare anche l'olio con la farina adesso andiamo a mettere due bustine di vanillina per profumare l'impasto e il nostro cucchiaio di cannella sapete che i dolci siciliani sono soprattutto questi del periodo dei morti sono molto speziati andiamo a dare una bella mescolata dopo aver amalgamato per bene la cannella andiamo ad aggiungere il nostro lievito per dolci chi non ha il lievito lo sedacciamo per bene perché ha sempre i grumetti chi non ha il lievito magari ha l'ammoniaca può mettere 4 grammi di ammoniaca per dolci andiamo a mescolare il movimento allora abbiamo finito di mettere il lievito e ho separato in due parti uguali l'impasto ad occhio in questa parte andrò a mettere 3 cucchiai di cacao amaro sedacciato e in quest'altra andrò a mettere mezza fialetta di aroma al limone se avete la buccia del limone non trattato andate a mettere la buccia io non ce l'ho quindi andrò a mettere l'aroma al limone procediamo andiamo a sedacciare dentro il nostro impasto il cacao amaro e poi gli diamo una girata con la foglia e lo amalgamiamo allora abbiamo finito di miscelare il cacao l'ho tolto dalla planetaria e lo riposto in questa ciotola perché adesso questi due impasti a questo ancora devo aggiungere la mezza fialetta e adesso che darà il gusto del limone e andranno a riposare in frigo per un'oretta quindi andrò a mettere intanto la mezza fialetta qui vado a dare una mescolata quindi abbiamo finito con i due impasti adesso i coperti di pellicola li mettiamo in frigo e li facciamo riposare un'oretta così risulteranno più malleabili perché sono mollicci e si appiccicano le mani nel frattempo che i nostri impasti bianco e nero riposano in frigo andiamo a prepararci le glasse allora per l'impasto bianco prepareremo la glasse a freddo al limone quindi ci serviranno 200 grammi di zucchero a velo e limone quanto basta io qua ne ho spremuti due e li ho filtrati vediamo se bastano se eventualmente non bastano ne mettiamo un altro invece per fare la glassa al cioccolato al cacao ci occorreranno 250 grammi di zucchero semolato due cucchiai di cacao amaro e 70 ml di acqua questa glassa verrà fatta a caldo questa a freddo andiamo a versare lo zucchero a velo in un contenitore più caviente e andiamo a mettere mano a mano il nostro limone dovremo ottenere una consistenza tipo yogurt un po' più densa perché deve rimanere bianchiccia sui biscotti quindi andiamo a mescolare deve venire una crema ecco qui la nostra tassa pronta vedete? bella fluida fluida però al punto giusto perché deve rimanere sul biscotto poi quando lo andiamo a mettere non ho usato due limoni ho usato metà contenuto del bicchiere adesso passiamo a fare la glassa al cacao si fa a caldo abbiamo versato i 70 ml di acqua nel pentolino andiamo a versare i 250 grammi di zucchero semolato e si devono sciogliere arriveremo ad ebollizione e il zucchero si scioterà una volta che il zucchero si è sciolto abbiamo fatto tutto l'ebollizione andiamo a mettere due cucchiai di cacao amaro e andiamo ad amalgamare il tutto a basso il fornello amalgamiamo bene ecco qui che la nostra glassa è pronta si è sciolto completamente il cacao ho spento il fornello vedete? e poi i biscotti una volta che saranno usciti dal forno e raffreddati verranno glassati sulla capella ed eccoci qua abbiamo uscito i nostri impasti dal frigo vedete? sono belli asciutti adesso che hanno riposato mi sono preparata una teglia con carta da forno ho acceso il forno a 180 gradi statico e quindi appena che sarà caldo li possiamo infornare intanto andiamo a prendere un pezzo di impasto facciamo una pallina facciamo delle palline e le riponiamo sul foglio di carta senza lavorarle troppo dopo aver finito quello bianco impasto se vi viene più semplice vi bagnate un po' le mani così l'impasto non si appiccica andiamo a fare quelli neri sempre a pallina adesso vado a prendere un'altra teglia perchè non mi entrano tutti qua quindi vado a continuare pure su un'altra teglia allora ecco pronti i nostri biscotti il forno è caldo andiamo ad infornare 20 minuti di cottura ed ecco qui i nostri te tu e te yo usciti dal forno questi si sono un po' crepati non fa niente perchè adesso verranno glassati e adesso li metteremo su una gradella raffreddare appena che saranno freddi li andremo a glassare allora andiamo a glassare i nostri te tu a cucchiaiate andiamo a versare la nostra glassa sui biscotti li faremo tutti e poi vi faccio vedere allora abbiamo finito di glassare i te tu alla glassa al limone naturalmente per assaggiarli dovremmo aspettare che si asciughi completamente e adesso andremo a glassare quelli al cacao andiamo a glassare adesso i nostri te tu e te yo al cacao ecco qua che abbiamo finito col mettere la glassa sia un po' solidificata quindi sbrigatevi a metterla adesso aspettiamo che si asciughino completamente per poterli assaggiare ed ecco i nostri te tu e te yo serviti su un vassoio adesso ne ho messo due in un piattino perchè vi voglio fare vedere come si presentano all'interno sono dei biscotti morbidi vedete questi sono con la glassa al limone e al gusto di limone e questi sono al cioccolato al cacao adesso li andremo ad assaggiare e vediamo come sono venuti vado ad assaggiare iniziamo con quelli con la glassa al limone molto buono il sapore della canale da ragazzi nei dolci siciliani tradizionali esplode in bocca quindi tutti i dolci tradizionali siciliani soprattutto questi qua che riguardano la la commemorazione dei defunti hanno tutte queste spezie sono molto speciali andiamo ad assaggiare questo anche questo molto buono vi voglio raccontare da dove viene questo nome te tu te yo quindi ha detto per dire tieni si dice te te tu prendi ecco come se si vuole ottenere il biscotto e quindi facevano quando si preparavano questi biscotti anticamente si preparavano e facevano uno tu uno io te tu te io te io finchè non li finivano tutti quindi era un modo ed è rimasto come il nome del biscotto poi in alcuni punti della sicilia viene anche conosciuto con il nome di totò quindi poi in base alla città questi sono catanesi come origine in altre città magari vengono chiamati totò non sono lo stesso impasto magari cambia qualcosina però bene o male le tradizioni siciliane in tutte le città sono simili può cambiare di qualche virgola la cosa ma non cambia in maniera sostanziale quindi se vi è piaciuta questa ricetta la volete provare è una ricetta tradizionale antica e delle nostre nonne quindi se la volete provare volete sentire un po' il sapore della sicilia fatela e farete felici i vostri bambini se ne avete a casa se vi vi fa piacere iscrivetevi al mio canale se vi piace seguirmi cliccate sulla campanella e arriveranno tutte le modifiche dei video che usciranno in seguito che dire con questo vi saluto e vi aspetto alla prossima ricetta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti